Un lungo weekend per scoprire a piedi le bellezze della città. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre Napoli partecipa alle giornate nazionali del trekking urbano. Anche quest'anno è l'associazione sportiva Run Naples ad organizzare il programma che affianca ai percorsi guidati nel centro cittadino visite in alcuni siti del sottosuolo. Si intitola infatti Sottosopra la seconda edizione napoletana dell'evento che coinvolge quest'anno 35 città italiane. La particolarità di quest'anno, appunto seconda edizione, è il coniugare una lunga passeggiata sulla superficie della città, quindi attraverso 2.000 anni di storia, con la visita di alcuni dei più rappresentativi, stupendi, unici siti del sottosuolo napoletano, per la precisione del catacomba di San Gennaro, il museo del sottosuolo, il tunnel Borbonico e gli scavi di San Lorenzo. In compagnia di guide specializzate sarà dunque possibile, camminando a piedi, conoscere la storia di chiese, piazze e monumenti, ma anche acquistare a prezzo ridotto biglietti per le visite nel sottosuolo, in programma anche il weekend del 9 e 10 novembre. È un modo per, camminando in città, vedere posti nuovi, posti nascosti, posti che magari normalmente si fa fatica ad andare a visitare, mantenendosi in salute e promuovendo la mobilità sostenibile, cioè senza inquinamento.